Che cos'è questo? Oh, eh, la terra mi ha mandato delle persone nuove, amici! Erano anni che non mi mandava niente, è giusto qualche sonda, ma qui parliamo di persone che metteranno sopra, piantano bandiere, fanno dirette televisive, sono passati quanto? 50 anni dall'ultima volta che ho avuto dei visitatori! Eh, non ho neanche dei salutini da offrire! Mi va bene del vino e formaggio, ma, eh, dove andate? Ah! 5, 4, 3, 2, 1, 0 Ah!